Nelle recente periodo numerose sono state le attività condotte dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro nella provincia di Siracusa a tutela dei lavoratori. Nel comune di Francofonte ad esempio sono stati eseguiti dei decreti di perquisizione nei confronti di 24 persone tra cui 8, due titolari d'azienda e 6 caporali ritenute responsabili a vario titolo in concorso tra loro di sfruttamento del lavoro ai danni di 27 lavoratori di cui ben 16 percepivano indebitamente anche il reddito di cittadinanza anch'essi indagati. All'inizio del 2023 è stata data esecuzione a una misura di controllo giudiziario di azienda nei confronti di una società con sede legale a Palermo che ha in gestione i servizi pubblici di assistenza e del pronto intervento del 118 all'interno dell'ambito territoriale della regione Sicilia contestando a due indagati inseriti nell'ambito societario lo sfruttamento dei lavoratori e la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro poiché in concorso tra loro impiegavano gli autisti soccorritori circa 200 dipendenti solo nella provincia di Siracusa sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno intimidendoli con la contestazione strumentale di leciti disciplinari in occasione delle segnalazioni di guasti alle ambulanze instillando la paura di trasferimenti presso sedi di lavoro disagiate obbligando loro a prestare servizio su autoambulanze prive dei presidi minimi essenziali per prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Oltre alle predette attività il NIL di Siracusa continua la costante azione di controllo delle attività lavorative della provincia e nelle ultime settimane ha effettuato un accesso ispettivo in un locale della modida siracusana riscontrando 13 lavoratori nero su 18 dipendenti e tra questi un extra comunitario clandestino in quanto privo di permesso di soggiorno. La stessa azienda aveva inoltre installato un impianto di videosorveglianza privo della prevista autorizzazione. Pertanto al legale rappresentante è stato notificato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale con sanzioni per un importo complessivo superiore ai 58 mila euro. I controlli dei militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro proseguono senza sosta per prevenire il ricorso a mano d'opera occupata in violazione di legge e contrastare gli infortuni sul lavoro.